Il Consiglio Comunale di Firenze ha approvato a maggioranza il nuovo regolamento del commercio su area pubblica. Enterà in vigore nei prossimi giorni. La novità principale è che i mercati dal centro storico a Firenze entro il 2023 dovranno vendere solo prodotti made in Florence, Tuscany, Italy, all'interno di banchi rinnovati e architettonici. Spetterà il piano delle aree e il compito di definire le collocazioni dei banchi nei singoli mercati. Sarà adottato al termine delle procedure di rinnovo delle licenze che si concludono entro il 30 giugno 2021. La norma sui prodotti dell'artigianato fiorentino, toscano e italiano entrerà in vigore gradualmente entro i prossimi tre anni. Il cambio prevede l'esposizione del 30% dei prodotti locali e nazionali entro un anno, del 60% entro due anni e del 100% entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento. L'operatore può chiedere una deroga presentando un allestimento innovativo e diverso, ma dovrà passare dall'autorizzazione del comune di Firenze. Per quanto riguarda la riqualificazione dei banchi del centro storico, Palazzo Vecchio nominerà entro sei mesi una commissione per realizzare un modello di banco architettonico coerente con lo stile della città. I nuovi banchi saranno realizzati entro due anni dall'adozione del piano.